On top of the world, on top of it all, trying to feel it being simple, yeah, oh, yeah, oh, I'm tired on top of the world Amici di AssisSportivo.com, siamo qui al campo Cercat dove lo Sportmania perde per 2-0 contro il Biccari Ecco, Presidente, Presidente Moccia, era una partita che alla fine non è che contava sulla classifica Comunque è stata una prestazione che nel primo tempo sono stati distratti un po' i ragazzi Poi nel secondo tutto Sportmania ha cercato di ribaltare il risultato ma la porta era stregata Ma non era in questa partita che dovevamo dimostrare qualità, carattere e quant'altro per poter arrivare alla vittoria E' una partita che non aveva nessuna importanza ai fini di classifica, pertanto diciamo che il risultato a noi non interessa Noi pensiamo che la testa è già la finalissima che ci vedrà impegnati a concludere questa stagione nel migliore dei modi Cioè con la promozione in prima categoria Certo, infatti lei diceva giustamente che la testa è impegnata con la finalissima Ma ricordiamo che alla semifinale ufficiale Rodi ha pareggiato contro il Matinum e lo Spinazzola perde Quindi sarà Rodi contro Spinazzola Chi temete di più tra tutte e due le squadre? No, noi non temiamo nessuno, sappiamo che dove fare questa partita in casa E daremo il massimo per o lo Spinazzola o il Rodi, non ci interessa Noi dobbiamo giocare al meglio e vincere questa partita Presidente, recupererete un po' di infortunati per la finalissima che si disputerà a fine maggio, ricordiamolo? Sì, infortunati, ci saranno alcuni ragazzi che recuperano, gli squalificati, oggi ne avevamo tre Quindi cercheremo di mettere una formazione la migliore possibile Ultima domanda, comunque vi apprezzate a vivere questa finale Comunque un campionato dove avete visto, dove avete dominato per gran parte del campionato Ecco, dove avete sentito che comunque questa squadra ce la può fare in prima categoria? Qual è stata la partita che ricordate di più con piacevole sorpresa? No, un po' tutte le partite, soprattutto in giro di andata e qualche partita del ritorno Poi dopo gli infortuni, ricordo che abbiamo avuto nove ragazzi infortunati Che sono poi i punti cardini di questa squadra E di conseguenza ha influito sui risultati negativi Io credo, come ho già detto, che se avessimo avuto la squadra completo Avremmo stravinto il campionato sicuramente Perché la mia squadra è superiore a tutte le altre, compreso Al Sauri E soltanto il campionato, le stagioni non si vingono soltanto sulle individualità E quando capitano queste cose purtroppo va contro ogni logica E quindi di conseguenza ne abbiamo sofferto Ultimo accenno sugli infortunati L'unico tra i più importanti, non per demerito Ma sicuramente perché il capocannoniere di questa categoria ancora E' il bomber Adriano Guglielmi Che giocherà sicuramente nella finalissima Eh sì, Guglielmi è stato quello che insomma ne abbiamo risentito di più Ma non solo Guglielmi, anche gli altri Iovino, Cascella, altri ragazzi fondamentali Che non ci hanno dato purtroppo per infortuni seri Che hanno compromesso tutto il proseguo della stagione E quindi i risultati poi dopo Ovviamente quando mancano giocatori importanti Anche diciamo l'aspetto psicologico viene penalizzato da parte di tutta la squadra I ragazzi anche più piccoli hanno dato il massimo quello che potevano Ma poi dopo ovviamente si sente la mancanza di tanti giocatori forti Contro i Rodi si suppone che sia l'ultima partita anche di Rosario Ortega Un difensore, un cerignolano che ha avuto il cuore sempre da cerignolano Comunque un grande giocatore alla fine Lui dice che sarà l'ultima partita Io non ci credo Spero di poterlo riavere per l'anno prossimo E comunque in ogni caso ci ha dato un valido contributo Lo ringrazio personalmente Per il suo apporto per questi due anni meravigliosi Credo insomma che comunque alla fine Quest'anno è stata un'altra nuova esperienza Che ci ha arricchito da un punto di vista sia umano che sportivo Perfetto, la ringraziamo Presidente E alla prossima è un appuntamento alla finalissima a fine maggio Amici di Assis Sportivo.com ci troviamo qui con il mister De Bicker, mister onorato Mister, avete disputato la classica partita perfetta Comunque il campionato non vi poteva dare ulteriori risultati Perché oramai vi siete salvati Sì, la classica partita perfetta è anche fortunata Perché c'è da dire che il collettivo del Cerignola È un bel collettivo, gioca molto bene E poi nel secondo tempo ci ha messo veramente sotto Siamo stati fortunati in un paio di occasioni Compreso la traversa E il nostro portiere ha fatto un paio di interventi veramente da categoria superiore Il primo tempo invece penso sia stata una buona partita da parte nostra Molte buone trame E il vantaggio del primo tempo era meritato Tutto sommato una buona prestazione Certo, a voi il vostro campionato è stato molto verso di ostacoli Intenso di ostacoli Perché praticamente avete vissuto un periodo in cui siete partiti male Poi di lì avete avuto una ripresa Fin quando non è arrivata la gognata salvezza E comunque cosa vi ha fatto scattare in quel campionato In quella gara particolare che c'è stato lo scatto per la salvezza Allora, ti dico Noi siamo partiti perché l'obiettivo era quello della salvezza Siamo partiti con un certo organico Questo organico chiaramente è stato subito falcidiato da infortuni Che hanno riguardato delle persone Che nel mio progetto iniziale erano molto importanti Quindi di lì trovare la sostituzione Trovare il modulo per quelli che erano rimasti Quindi un po' di tempo per provare tutte queste cose E poi alla fine abbiamo trovato la quadratura E la gara forse è stata quella del Bisceglia in casa Perché lì eravamo veramente rimaneggiatissimi E chiesi al gruppo Oggi facciamo il nostro campionato Perché se perdiamo dobbiamo lottare fino all'ultimo secondo per la salvezza Se invece vinciamo oggi Forse prendiamo consapevolezza delle nostre convinzioni E può darsi che faremo un campionato un po' più tranquillo E così è stato In quell'occasione vincemmo 2-0 E quindi da lì avete percorso la salvezza Mattatore della gara andando nello specifico È stato il numero 9 Silvestre Un giocatore che comunque durante tutta la partita È il classico Ariete Che ha dato fila da torce ai difensori cerignolani Penso che sia un giocatore da proporre in categorie superiori È chiaro che nei nostri campionati dilettantistici Si pensa prima allo studio, al lavoro E poi al classico divertimento che è quello del calcio Certamente Silvestre Donato Stiamo parlando del numero 9 È un ragazzo che ha studiato, si è laureato Ora sta provando ad inserirsi nel mondo del lavoro E quindi prima di tutto un complimento grande per questo E poi un secondo complimento al Tettanto Grande Che ha permesso anche a noi con i suoi 20 gol stagionali Di salvarci prima anche dal punto di vista calcistico L'anno prossimo state già programmando Comunque la nuova stagione Che sarà sempre in seconda categoria Cosa vi vedrà sempre? Quali sono i progetti futuri? È inutile illuderci L'obiettivo è sempre la salvezza Perché noi facciamo tutto in casa Tutti gli uomini che hai visto in mezzo al campo E quelli subentrati sono tutti del nostro paese Un paese di 3.000 abitanti E per noi questo è un progetto di socializzazione Quindi cercare di dare una possibilità ai ragazzi del nostro paese Di non incorrere in devianze Quindi prima di tutto la salvezza E cosa dire? Se i ragazzi prendono coscienza di quelli che sono le loro forze Le loro virtù Sperando qualche punticino in più Se si potrebbero fare i playoff Però non illudiamoci Un complimento ancora a voi Alla società dei Biccari E un buon bocca al lupo per l'anno prossimo Grazie Grazie Un buon bocca al lupo anche al Cerignola Soprattutto perché ha da disputare queste due partite di playoff Lo meritano E quindi un buon bocca al lupo anche a loro E grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti